caro crotone non ci siamo non ci siamo perché comunque fino a oggi il campionato del crotone ci ha dato ci ha fornito prestazioni troppo discontinue troppo altalenanti e per due volte manca la possibilità dato che comunque il pordenone rallenta perde anche crotone e manca la possibilità del sorpasso e queste poi sono occasioni che si presentano una volta due volte poi alla lunga attese presenta il conto il conto potrebbe anche essere salato perché se perdi tutte queste opportunità prima o poi da dietro da dietro qualcuno ne approfitterà perché comunque il gruppo è abbastanza compattato oggi ne ha approfittato l'Empoli che cambia nuovamente gestione tecnica una stagione che potremmo definire fallimentare visto quelli che erano gli auspici a inizio anno ne fa le spese anche roberto muzzi arriva pasquale marino e come tutti i cambi allenatore da quella quella verve quella scossa genera magari quell'amor proprio la parte dei calciatori e sfotera una prestazione sicuramente di livello oggi non che il crotone abbia sempre subito perché poi a livello di occasioni nello specchio siamo tipo sei a quattro per i padroni di casa a livello di possesso palla però siamo lì e a livello di occasioni create di volume insomma di gioco spostato in avanti il crotone anche grazie a un secondo tempo ha fatto anche qualcosina in più però tutto sommato l'Empoli è più una prestazione più gagliarda più concentrati più efficaci in tre minuti in pratica risolve la gara perché prima il vantaggio di tutino sempre più elemento importante all'interno ecco forse di tutti gli acquisti è quello proprio che ha dato la svolta e poi ritorna il gol anche di di mancuso che fa scendere questa palla e poi tira una staffilata all'angolino e poi c'è stato il crociata che accorcia le distanze ma più che arte del portiere perché si è lasciato sfuggire una palla che poi ha sbattuto sul palo d'entrata quindi una papera grossolana da parte dei bregnoli e poi nella ripresa sempre tutino che innesca Henderson per il 3 a 1 quindi niente staremo a vedere per il momento l'Empoli si toglie dalle sabbie mobili staremo a vedere se è in grado di dare continuità a questo risultato poi fra tre quattro partite salta pure marino e poi non so a chi cazzo se si rivolgono effettivamente stagione fallimentare e per il crotone si si può ancora raddrizzare la stagione per carità però insomma in questo momento che dura da un bel po dall'idea di una squadra veramente incostante discontinua e che deve fare molto di più se vuole raggiungere la serie a direttamente altrimenti poi si gioca ai playoff e come va va grazie a tutti